musica 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 weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi qualche novità come vi accennavo un paio di giorni fa in live sembrerebbe essersi smossa per quello che riguarda un possibile sviluppo o meglio una possibile data di uscita di GTA 6. Siamo sempre tutti alla ricerca nei vari siti web, nei forum da chi è più vicino diciamo al team di Rockstar Games di qualche informazione che potrebbe trapelare per cercare di capire se questo sarà l'anno giusto quando arriverà in quale modo insomma ragazzi la curiosità è tanta la voglia di vedere questo nuovo capitolo il sesto appunto della casa produttrice finalmente avere la luce è alle stelle e devo dire che leggendo un po' in giro si muove tanto tanto i rumors sono veramente notevoli in questo periodo il che ci lascia ben sperare oggi voglio parlarvi però appunto di una cosa che è stata un po' contestata e soprattutto che ha destato l'interesse dei mass media per quanto riguarda appunto Rockstar Games praticamente sembrerebbe che ci sia la prima prova tangibile della possibilità che quest'anno il 2020 sia quello giusto per l'uscita di GTA 6 quindi questa prova da che cosa deriva deriva dal fatto che Rockstar Games ha richiesto uno sgravo fiscale sfruttando la cosiddetta VGTR che sarebbe Video Games Tax Reel una roba del genere o Relief adesso non saprei pronunciare velo bene che cosa vuol dire vuol dire che Rockstar Games ha chiesto al governo britannico di avere indietro un tot di soldi per reinvestirli nei propri progetti vi spiego un pochettino meglio intanto che cos'è la VGTR la VGTR è la riduzione fiscale dei videogiochi e si applica alle case produttrici di videogames principalmente indie no praticamente che hanno investito dei soldi sul proprio prodotto e magari arrivati ad un certo punto non riescono più a sostenerne i costi di produzione e quindi sfruttano questa legge che gli permette di riottenere il 20% delle spese fatte sul videogioco ad esclusione della progettazione e del dell'idea e della progettazione questo che cosa vuol dire viene data alla casa produttrice che richiede la VGTR il 20% del totale che ha dichiarato se per esempio il totale è un milione gli verranno ridati 200.000 euro il problema è che non si parla di centinaia di migliaia di euro ma si parla di una cifra che arriva a 36,7 milioni di sterline di sterline perché vi spiego per far funzionare la VGTR bisogna che il gioco sia stato prodotto dentro il Regno Unito perché è una legge appunto del loro paese ovviamente Rockstar Games ha quattro sedi principali ha quattro sedi di cui la principale è proprio lassù nel Regno Unito 36 milioni di sterline che si vanno ad aggiungere ad un totale di 80 milioni lascia un pochettino perplessi lascia un pochettino perplessi perché Rockstar Games che solo lei ha richiesto il 37% del totale di tutte le aziende che hanno fatto riferimento alla VGTR beh lascia ben pensare che voglia reinvestire questi soldi molto probabilmente quasi sicuramente sulla pubblicazione oppure sul termine della realizzazione di GTA 6 leggendo questi numeri ragazzi la cosa è mastodontica perché se consideriamo che viene dato il 20% come vi ho detto prima di un totale ben definito e gli sono stati dati 36 milioni quanto può essere costato lo sviluppo di questo titolo X anche perché appunto a parte Red Dead Redemption 2 che è sicuramente un altro capolavoro appunto di Rockstar non ci sono videogiochi che hanno un costo così elevato o comunque hanno delle spese da sostenere così elevate per una possibile pubblicazione questo ragazzi è un chiarissimo segnale di allarme che ci può far sperare che il 2020 sia l'anno giusto per l'uscita di GTA 6 anche perché le pressioni su Rockstar appunto dai social e da tutto si fanno sentire sono interessanti e beh questo dato sicuramente ci dà uno spiraglio di luce e alimenta ovviamente il desiderio voglio però farvi vedere prima di salutarvi un'immagine molto carina molto interessante uno dei primi leak apparsi riguardanti GTA 6 che è proprio questa immagine ritrae un personaggio di schiena visto così è molto somigliante al nostro amico Trevor non sappiamo bene da dove arriva questa fotografia ma potrebbe essere un qualcosa che è inerente appunto all'ultimo capitolo all'ultimo si augura capolavoro di Rockstar sarà sicuramente un progetto mastodontico sarà un qualcosa al di fuori dell'immaginario comune abbiamo già visto qualche video sulle news spero ovviamente che ce ne siano delle altre io per adesso vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale e vi ricordo che io sono in live con GTA dalle 15 alle 18 sulla piattaforma viola tutti i giorni ciao